Grazie a tutti Però non credo che lo conosciate Forse sta arrivando In realtà ho pochi secondi Cioè nel senso uno spesso pensa di avere molto tempo ma poi non ce l'ha Vabbè il timore è sempre quello di sprecare il proprio tempo Però è anche vero che se non approfondisci certe cose Vabbè Mio nonno ha avuto diciamo un ruolo importante anni fa Conosceva diciamo tutta la vita intellettuale letteraria E i primi anni dieci, venti, trenta Era un asso a biliardo Portava sempre con sé una bibbia attascabile Ed è stata anche la madrina di James Joyce Grazie a tutti